ben tornati ragazzi sempre sul canale fede compari aver finito la lettera siamo di modo su un rival e andiamo avanti sole invernale o ruggine facciamo sole invernale perché possiamo fare solo quello quindi sti cazzi se non vedrete più episodio di un rival sul mio canale perché da un po' insomma se non vedete più video di un rival da un po' sul mio canale è perché la mia connessione ha deciso di smettere di funzionare non so assolutamente perché ma questa è l'Italia farlocca delle connessioni fibra detto questo siamo nella neve ed è veramente bello come al solito e io non vedo cosa di andare di qua questa cosa vuol dire che mi serve la pigna pigna che sta diventando mega galattica giustamente mi aspettavo che ci fosse un segreto in realtà non c'è un segreto c'è la pigna che è diventata mega pignosa oppla porco demonio bello bello sto gioco mamma mia se è bello molto però una scampagnata ma non è veramente bello sto gioco no Chris morto proprio ah adesso e come cacchio devo fare ah posso arrampicarmi no scusa ma no scusa prima si era arrampicato adesso non posso più arrampicare strano gioco questo ma che cazzo devo fare non ci arrivo ah ok va bene bellissima ambientazione purtroppo purtroppo delle volte rimani incastrato però vabbè quello è normale cosa cazzo devo fare adesso ah era solo per il cavo beh va bene quindi poche parole ah vedete non l'avevo visto c'era il coso qui c'è l'altro là sopra no 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 aspetta attacchiamo il cavetto qui attacchiamo il cavetto qui beh perché adesso ormai sto gioco non mi frega perfetto guardate che meraviglia che meraviglia non ho molto da dire ragazzi da non dire che meraviglia sto gioco di una bellezza assurda di una bellezza assurda sta diventando tutto molto più semplice no madonna norcia ragazzi questa è norcia la mitica norcia che qualcuno ha detto pure che ama quando dico norcia quindi adesso si scherza però allora andiamo di qua attacco il cavetto ok ok non so se c'erano dei segreti sicuramente c'erano dei segreti però non è che mi interessa più di tanto adesso come adesso ah ok ho finito il cavo perfetto meraviglia meraviglia ma tanto là non ci riesco da arrivare sicuramente da qualche altro guarda di qua ma proprio per un cazzo ma proprio per un cazzo ah ho capito ho capito ho capito credo di aver capito forse devo prendere la pigna ma come faccio a prendere la pigna ecco c'è un problema di fondo ecco il problema di fondo è questo io sono idiota il problema di fondo è questo molla sto cazzo di cavo guardalo ho capito cosa devo fare però chiaramente finché non me lo fa molla tutto ok prendi tutto il cavo che ti serve attacca il coso lì attacca il coso qua e attacca il coso lì così portiamo la pigna lì che dovevamo togliere poi riusciamo a togliere tutto in teoria poi in pratica se me lo fa mettere non è stronzo infatti è stronzo un po' macchinoso questa cosa degli oggetti delle volte però ci sta no lo vedi che sono un idiota merdoso proprio questa parte l'ho tagliata sicuramente l'avrò tagliata sicuramente perché cioè per fare tutto sto pop sto pop di roba ci ho impiegato una vita quindi ah guarda va giù di là qua ci sarà un altro checkpoint in teoria chi cazzo l'avrebbe mai detto figa qua sotto c'è qualcosa? sicuro che c'è un segreto qui sicuro c'è un segreto eh infatti ecco amore bello sto gioco è veramente una meraviglia per gli occhi per il cuore per l'anima per il pe no per il pe ne no ho finito il momento il momento tenerezza no il momento filosofia ok e adesso posso andare avanti giustamente veramente è uno spettacolo per gli occhi adesso questo si spezza infatti mi ha immaginato perfetto ah guarda guarda c'è un farmi andare madonna ah la pigna la pigna prendiamo la pigna ma cosa serve la pigna? non ho la più bella idea ma magari mi serve sopra magari mi serve sopra ma no mi serve per un altro checkpoint oddio madonna la spettacolo che bello che bello che bello ragazzi purtroppo so dire solo che è bello perché è realmente così cioè poi a molte persone potrebbe anche non piacere il tipo di gioco eh perché non è nelle sue corde però mamma mia ragazzi mamma mia stanno abbastanza molto in scioltezza opla opla ho preso un segreto meraviglia oddio oddio no ma stanno succedendo cose su cose non avrei mai pensato potessero accadere morto così come uno uno stronzo lercio dobbiamo aspettare che crolli verso di là ok ok perfetto dai crolli verso di là ok vediamo se se mi fa andare da qualche qua non mi fa andare da nessuna parte questo albero devo andare semplicemente giù la rotta di collo porco demonio dai 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 grande proagine questa è maestro proprio buono buono grande questa è maestria però veramente bello questo livello forse è più bello per adesso non lo so ragazzi sono tutti belli però forse questo è uno dei più belli anche per l'artistico cioè qua che cazzo devo fare ah ci vuole una palla sicuro infatti lì c'è il coso meravigli ok vai buono grandissimo eccolo lì eccolo lì di nuovo fiero lui c'è un cervo vedete il cervo in tutta l'alza due cervi eh cornutacce vai 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 ok molti cervi anche una motoslitto ma che cazzo devo fare bene il mech guarda che aspetta ma che cazzo devo fare fare così no oh cazzo ma cosa devo fare scusa devo fare ah ho capito se non ho ah ok ok sono io che sono coglione che diverso devo fare così portare l'altro qua ma come faccio portalo lì norcia ok così così ce la devo fare perfetto guarda la norcia guarda come come morire come idioti proprio morire come idioti dai che cazzo fai no no ok perfetto vai norcia ok perfetto adesso io in teoria posso fare così buono così ci siamo perfetto hai visto il puzzle è abbastanza semplice ma io sono idiota quindi mi sta a morire come un pirla stanno facendo tipo una specie di carotaggio in teoria perché è bene andiamo che cazzo devo fare ah ok non saliva buono così ragazzi buono così veramente meraviglioso questo livello e dai ok attacchiamo l'altro di qua più ci riusciamo a saltare diventa tutto abbastanza opla perfetto ah questa posso spostarla forse vado a spostarla no non so ecco questo questo è un enigma che mi spaventa questo è un enigma che no in realtà non mi deve spaventare per niente perché devo metterla il sassolino dentro là no ho capito 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 devo fare così no forse no così solo così solo così e poi è passato dall'altra parte ok ok fatemi un attimo adesso so che era vicino al cavo e non lo prendeva però se io salgo dove vado a prendere un oggetto che non servirà un cazzo ma lo prendo lo stesso ma come faccio a prenderlo non lo so non so come prenderlo ma vabbè dopo magari riusciremo a prenderlo adesso devo attaccarlo lì forse ok perfetto forse no non riesco così non riesco assolutamente vabbè non è di vitale importanza che chiaramente prende gli oggetti però questo va dentro una ciotolina e io riesco a fare quello che devo fare le mie porcate varie oplala cosa è cambiato però il cambiatore dovevo salire sopra giustamente che idiota vabbè il segreto si va a fottere abbiamo finito il livello credo sì sulla grondaia oplala che spettacolo che è sto gioco e il cerchio si è quasi chiuso il cerchio si è quasi chiuso poesia in movimento arte in movimento in altre parole unrival manca uno in teoria no? sole invernali alcuni giorni sono più caldi di altri indipendentemente dal freddo che fa e alcune cose sono divertenti pur essendo ormai vecchie e a volte vorresti che una visita non finisse mai ovvio ah che bella la neve mamma mia quanta neve magari venisse qua tutta sta neve staremo tutti a casa a fare un cazzo che bello anche io ero piccolo così una volta sono vecchio si scherza sembra proprio un orcio ragazzi boh finito perfetto ragazzi noi possiamo beccarci alla prossima e niente spero vi sia piaciuto il video commentate iscrivetevi al canale e mettete un like se vi è piaciuto sennò ci sono altri canali alla prossima ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti